Scuola in rete per il potenziamento delle competenze logico-matematiche. Presentato ieri all'Hotel Marad, editore del Greco, il progetto pilota finanziato dal Ministero, unico nella regione Campania. Sono sette istituti comprensivi in rete, scuola capofila Aldo Bosco d'Assisi. L'obiettivo è la sperimentazione di nuove strategie didattiche per l'insegnamento della matematica. Scuola in rete, la matematica come obiettivo principale? Sì, questo progetto è un progetto pilota finanziato dal Ministero, unico nella regione Campania, uno dei sette finanziati a livello nazionale che pone l'accento sulla sperimentazione di nuove strategie didattiche per l'insegnamento della matematica nell'ambito della valorizzazione delle competenze STEM che rappresentano oggi le competenze strategiche per vivere in un mondo globalizzato. Le scuole coinvolte nel progetto sono quasi tutti gli istituti comprensivi di Torre del Greco che hanno accolto l'invito ad unirsi in rete con l'IC Don Bosco d'Assisi per realizzare questo progetto che ha avuto il patrocinio anche del Comune Torre del Greco, della regione Campania, dell'USR e dunque è un progetto da cui ci aspettiamo tanto. Un progetto che coinvolgerà circa 300 docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Saranno attivati 15 percorsi formativi di ricercazione, quindi attività didattica anche in classe con gli alunni al fine di rinnovare la pratica didattica. Chi sono i docenti di queste attività? I docenti sono docenti provenienti dalle più svariate realtà culturali, professionali e accademiche del territorio nazionale. Ci sono docenti che vengono dalla Università dell'Aquila, docenti che hanno fatto la storia della matica in Italia nella ricerca e della sperimentazione, docenti che arrivano da Milano, quindi abbiamo selezionato il meglio di quella che poteva essere la qualità professionale italiana per poter offrire ai nostri docenti in formazione la migliore qualità possibile. Siamo orgogliosi sul territorio di Torre del Greco aver costituito una rete di ben sette istituti comprensivi per realizzare questo progetto in cui noi dirigenti abbiamo creduto. Si tratta di approfondire quelle tematiche legate al fare scuola, quindi alla didattica della disciplina. Se poi si parla di discipline scientifiche, discipline STEM, la matematica in particolare, possiamo considerare l'impostanza che oggi queste discipline hanno assunto. Le scuole di Torre del Greco credono nella formazione del personale dirigente, docente e non solo, perché la vera sfida del cambiamento è proprio nel sapere osservare da prospettive diverse e quindi avere un corpo docente, avere del personale che sa guardare nuove direzioni, nuovi orizzonti. Io credo che sia il volano per il cambiamento, per un reale cambiamento, in una società così complessa come la nostra. Un progetto patrocinato anche dal Comune di Torre del Greco. Partecipiamo ad un progetto di orientamento e formazione che le scuole mettono in campo. Abbiamo anche noi contribuito, come è stato ampiamente detto, con un finanziamento importante per la formazione, in questo caso extradidattica e delle scuole del territorio. Abbiamo detto che in un biennio abbiamo dato 300.000 euro che devono consentire di estendere il principio con il quale insieme ai dirigenti scolastici ci sbattiamo, che è quello appunto di tenere il più possibile i ragazzi nelle scuole. Da questo punto di vista abbiamo avviato tutta una serie di attività che da qui alla fine di quest'anno scolastico vedranno la luce. Grazie a tutti.